Fervono i preparativi ad Alvignano in vista del memory all'Antonio Antimo e Domenico, vera e propria kermess dell'estate alvignanese, ormai giunta la sua quarta edizione. Il valore del ricordo dei tre giovani alvignanesi terrà banco per tutto l'arco del torneo e si unirà alla giusta dosi di agonismo finendo per caratterizzare tutte le sfide che si terranno a partire da martedì 28 presso la struttura sportiva Kairos di Alvignano. Noi abbiamo ascoltato gli organizzatori. Il torneo sta crescendo sempre di più e anche il livello medio delle squadre si sta innalzando di anno in anno. Quali novità introdurrete per questa edizione? Principalmente quest'anno abbiamo suddiviso le categorie in due gruppi, abbiamo fatto i ragazzini un po' più piccoli e poi gli adulti, anche per comunque formare i ragazzi più piccoli e invogliarli a partecipare a questo memorial che comunque ci teniamo abbastanza. In veste di organizzatore invece Giuseppe, cosa si prova a veicolare attraverso proprio lo sport il ricordo dei tre ragazzi alvignanesi ai quali è intitolato il memorial Antonio Antimo e Domenico? Allora, noi abbiamo deciso di fare questo memorial essenzialmente per ricordare, ricordare i tre amici che non ci sono più e abbiamo deciso di farlo tramite un evento che li rappresenta nel modo più assoluto perché tutti e tre erano grandi appassionati di sport, di calcio, di calcetto. Naturalmente il lavoro, sacrificio e critiche sono parte costante sia dell'organizzazione che dello svolgersi del torneo. Però noi andiamo avanti soprattutto perché è una cosa che va fatta. Ci ripagano anche le persone che vengono da noi e ci dicono grazie, state facendo qualcosa di bello, state facendo qualcosa di importante.